Avvicina il progetto messo in campo dai senatori del Partito Democratico, in particolare Luciano D'Alfonso, che dal 14 al 16 novembre vede Pescara come prima tappa nazionale con il quale sono promosse iniziative di politica di prossimità, volte a comprendere e approfondire in un confronto con le realtà locali le opportunità date dalle risorse del PNRR, ma anche i rischi che possono venire dalla congiuntura sociale ed economica in corso. Ci sono 227 miliardi di euro che dal gennaio del 2021 per sei anni devono essere dispiegate queste risorse a favore di città, imprese e persone sulla base di alcune straordinarie priorità, la transizione digitale, la transizione ecologica, la copertura sanitaria su misura della domanda di salute. Questo non accade in automatico. C'è bisogno di coinvolgimento degli interessi, delle collettività, delle città. Oggi abbiamo voluto ascoltare il sindaco di Pescara, il prefetto, le espressioni del sindacato, del terzo settore, dell'impresa che produce ricchezza, concordare con loro qualche obiettivo prioritario che ci veda tutti insieme, perché non ci interessa spendere per fare rendicontazione. Noi dobbiamo investire per potenziare questo territorio, renderlo funzionante, garantire più diritti, più capacità di progetti di vita. Noi non sappiamo se torneranno rotture di civiltà come la pandemia, ma dobbiamo essere pronti, facendo in modo che torni la fiducia, superando la paura, facendo in modo che queste risorse straordinarie riattivino il circuito economico. C'è il tema della qualità dell'acqua, del fiume, il sistema depurativo. Noi abbiamo ancora sofferenza per la copertura idrica e su questo dobbiamo operare, così come dobbiamo liberare aree esauste a favore della vita della città. Penso all'area esausta riguardante il cementificio di Pescara, all'area esausta anche di alcune aziende che non sono più produttive nella cinta muraria tra Chieti e Pescara. Penso anche alle carceri di Pescara, che oggi sono insicure, incapaci di funzionare, devono essere collocate altrove e quello spazio deve essere donato alla qualità della vita delle famiglie di questa città e del sistema urbano. Si può fare, altrove in Italia si sta facendo, dobbiamo lavorare non solo per l'oggi e per il domani, ma anche per i prossimi anni. Pescara città adriatica richiede questo.